No Green Pass. Il primo settembre blocchiamo stazioni. Riportiamo da televideo. Annunciato un blocco delle stazioni il primo settembre per manifestare contro l'obbligo del Green Pass che entrerà in vigore in quella data per chi viaggia sui treni a lunga percorrenza. Non ci fanno partire col treno senza passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno. Si legge sulla chat basta dittatura su Instagram dove fino a ora sono state organizzate le manifestazioni del No Green Pass. Sono 54 le città in cui è previsto il blocco. 54 quindi vedete che molto si muove, qualcosa si muove, ci si organizza, ci si dà da fare, il dissenso è tanto e sacrosanto. Passaporto schiavitù è una definizione azzeccata, anche lascia passare e non pensavamo mai che in Italia potessimo arrivare a questi punti, però ci siamo arrivati. Ora vedremo una reazione, credo e prevedo del resto. Ad azione corrisponde sempre reazione, la reazione naturalmente pacifica, ma se ci si mobilita, se ci si muove, se si lotta, sicuramente i risultati arrivano. Lotta pacifica, è chiaro. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al mio canale, volevo pubblicizzare un momento questa lodevolissima iniziativa e alla prossima videopillolina.